Ben ritrovati edizione della notte del nostro videogiornale che va in forma ridotta per dare spazio poi a un dopo VG dedicato interamente alla partita del Napoli e proprio al Napoli dedichiamo questa apertura del nostro notiziario perché poco fa si è conclusa la semifinale di Supercoppa tra gli Azzurri e la Fiorentina il risultato è stato nettamente a favore degli uomini di Mazzarri trascinati da un Super Zerbin autore di una doppietta nel finale 3-0 il punteggio finale nel primo tempo il vantaggio degli Azzurri era stato siglato dal Ciudito Simeone nella finale della prima frazione di gara la Fiorentina aveva avuto la possibilità di pareggiare con un calcio di rigore calciato però alto dall'attaccante Viola avremo modo di riparlare poi in serata della Napoli invece andiamo avanti con la cronaca e parliamo del decreto Caivano perché si prospetta un nuovo provvedimento sempre nell'ambito del progetto di riqualificazione del territorio questa volta riguarderebbe lo sgombero di 250 persone si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Napoli per fare il punto sulla situazione di attuazione del decreto Caivano varato dal governo nel 2022 per contrastare la criminalità organizzata nel comune napoletano nel corso della riunione è stato fatto il punto sull'incremento della dotazione organica del personale comunale ed è emirso che la procura di Napoli Nord sia per emettere 250 ordinanze di sgombero per circa 450 persone che occupano abusivamente immobili di edilizia residenziale pubblica nel Parco Verde una delle zone più degradate di Caivano non solo si è condivisa la necessità di strutturare un piano di azione condivisa al fine di contemperare l'esigenza di liberare gli immobili con le esigenze sociali ed abitative degli attuali occupanti con riguardo alle situazioni di fragilità si è ipotizzato anche di prevedere un contributo per autonoma sistemazione per coloro che decideranno di lasciare spontaneamente le abitazioni per quanto riguarda gli altri interventi è stato sottolineato che sarà attivo entro 15 giorni il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità ed è in via di canterizzazione la riqualificazione dell'intera rete idrica del territorio la società Air Campania ha previsto l'istituzione di tre nuove linee interni al comune mentre l'azienda napoletana Mobilità ha previsto collegamenti diretti tra il territorio comunale e le stazioni a alta velocità di Afragola e quella di Aversa infine si è ripetita l'importanza di mantenere attiva l'attività di monitoraggio al fine di garantire un corretto andamento e un'efficace condivisione dei risultati ottenuti la grande attenzione da parte del governo sul territorio di Napoli e della provincia è testimoniata anche dalle dichiarazioni rese oggi dal ministro degli interni Matteo Piantedosi che ha annunciato un incontro a breve con i sindaci di Roma, di Milano e di Napoli proprio per fare il punto della situazione sul piano di sicurezza territoriale poi ha parlato di una vera e propria task force che riguarderà in particolare proprio le città di Roma e di Napoli con l'aumento di presenza sul territorio di agenti delle forze dell'ordine e militari Più forze dell'ordine, più militari a Napoli per fronteggiare i fenomeni di micro e macro criminalità l'annuncio è stato dato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi che per la prossima settimana incontrerà anche il sindaco Manfredi nell'ambito di una riunione alla Viminale proprio sul tema della sicurezza nelle grandi città Continua dunque il potenziamento degli organici delle forze di polizia incrementato a Napoli di 165 agenti per l'arma dei carabinieri nel corso del 2023 il saldo tra assegnazioni effettuate e trasferimenti in altre province registra un incremento a Napoli di 58 unità ad esse si aggiungono i militari del contingente ordinario dell'operazione Strade Sicure che a Napoli ha visto l'aumento di 45 agenti per un totale di 658 unità il ministro ha ribadito la generale attenzione riservata dal governo alle tematiche di sicurezza urbana che ha trovato una specifica declinazione rispetto alle città di Roma e Napoli dove sono state adottate linee di intervento finalizzate ad assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle forze dell'ordine anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati positivi in termini di capacità di controllo del territorio di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità Piantedosi ha assicurato che proseguiranno anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili per smanterrare le piazze di spaccio per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentano criticità legate a condizioni di degrado dal 1 gennaio 2023 al 17 gennaio di quest'anno a Napoli sono state 135 le operazioni di alto impatto l'incontro con il sindaco Manfredi avrà lo scopo di intradurre più incisive misure di prevenzione complementari al piano coordinato di controllo del territorio è in grado di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini soprattutto negli orari più a rischio non piace ai residenti di piazza degli artisti stiamo parlando del quartiere collinare del Vomero il nuovo dispositivo di traffico che prevede una mini isola pedonale al centro della piazza resa sin necessaria nel corso delle festività natalizie per la presenza di un mercatino di Natale adesso sta diventando permanente secondo i residenti crea particolari problemi di viabilità Al Vomero la viabilità è da sempre un tema spinoso percorrere le strade del quartiere collinare a qualsiasi ora del giorno per gli automobilisti è sempre impresa complessa il motivo è il traffico di auto e motorini che intasa le arterie principali finendo per bloccare anche le vie secondarie con il risultato di caos, inquinamento acustico e pericolo per i tanti pedoni che circolano per raggiungere gli uffici o le strade dello shopping l'amministrazione comunale da tempo lavora per migliorare la viabilità il presidente della commissione infrastrutture e mobilità Gaetano Simeone chiede che piazza degli artisti, punto di snodo fondamentale si riapra al traffico veicolare la chiusura della piazza fino ad oggi giustificata per consentire da un lato la realizzazione di iniziative per le festività natalizie finite da oltre dieci giorni e dall'altro i necessari lavori di messa in sicurezza dell'albero monumentale sta provocando forti criticità al traffico dell'intera area due mercati rionali circondano piazza degli artisti e per la recente pedonalizzazione migliaia di residenti vedono inoltre precludersi il servizio di trasporto pubblico su gomma cambia in qualche modo la circolazione delle automobili anche nella zona ridosso del palazzo reale in particolare nell'area riservata alla fruizione dei turisti che si apprestano a visitare il palazzo e che da molti anni però viene occupata anche dalle automobili adesso quell'area è stata liberata Fiori e decoro per eliminare la sosta selvaggia e abusiva nel cuore di Napoli è stata liberata dalle auto l'area pedonale che costeggia Palazzo Reale tra piazza Trieste e Trento e via Vittorio Emanuele III l'amministrazione comunale ha deciso il posizionamento di otto nuove fioriere che si aggiungono a quelle già presenti da tempo per impedire che l'area venga nuovamente utilizzata come parcheggio l'intervento è stato effettuato alla presenza dell'assessore alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Jesue alla presidente della prima municipalità Giovanna Mazzone con gli agenti della polizia locale coordinati dal maggiore Bruno Capuano insieme alle squadre della Napoli Servizi la decisione di collocare le fioriere per impedire l'accesso alle auto e alle moto è finalizzata al ripristino e al decoro di una delle zone di maggiore pregio della città la rimozione del parcheggio abusivo recepisce le indicazioni che arrivano direttamente dal Ministero della Cultura tenere libero lo spazio a ridosso di Palazzo Reale per consentire da piazza Trieste e Trento di apprezzare la visione dell'edificio simbolo di Napoli una mossa che potrebbe nel futuro prossimo consentire anche la riapertura del vecchio cancello del re prima oscurato dalle auto a parcheggio e sempre a proposito di Palazzo Reale è stata avviata l'operazione di restauro della Fontana della Fortuna nel cortile reale della storica residenza uno dei luoghi di maggiore attrazione anche dal punto di vista culturale e turistico tra l'altro ai visitatori sarà possibile assistere anche progressivamente alle fasi di realizzazione dei lavori di restauro adesso vediamo le previsioni del tempo il meteo è presentato da confetti crispo previsioni per venerdì al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita sulle aree interne cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita sulle coste molte nubi con deboli piovigini sulle isole molte nubi con deboli piovigini temperature massime senza variazioni temperature minime in calo mari molto mossi venti deboli da sud-est ci sono pianti felici che possono cambiarci per il resto della vita ma uno solo è unico e per sempre un lieto evento va sempre condiviso il lieto evento una gamma completa di prelibati confetti tutti incartati singolarmente allora vi lascio allo speciale Supercoppa in studio con Titti in prota ci saranno Rino, Cesarano e Ciccio Troise per parlare della vittoria del Napoli sulla Fiorentina adesso il Napoli attenderà in finale la vincente tra Inter e Lazio l'informazione invece come sempre torna domani grazie per averci seguito